Ecco adesso le immagini intanto si sono soffermate, intanto io spiego questo carro, poi passeremo alle immagini da studio. Questo è un altro carro, anche questo di prima categoria perché vi ricordo vanno alternandosi. Ti prego ridi pagliaccio, questa è una preghiera che viene fatta a questo enorme pagliaccio al centro del carro che simboleggia il carnevale nell'atto di sollevare dal mare il nostro stivale che rischia di andare a fondo. L'esortazione rivolta al triste clown di tornare presto a sorridere, si riferisce evidentemente a tempi migliori. Ecco vedete Andreotti poi Craxi con la clava, c'erano dietro le spalle così cercando di cogliere alle spalle chissà chi. Vedete che ti prego ridi pagliaccio, questa è questa preghiera che viene fatta al carnevale. Perfetto, adesso vedremo un'inquadratura nell'interno di questo splendido studio mobile, eccoci siamo in diretta da questo studio mobile. Buonasera a tutti, adesso così ci conosciamo meglio. Abbiamo parlato poco fa che i Passengers hanno fatto questo spettacolo di sera con un grandissimo successo e a bussola domani. Quindi quest'oggi si sono soffermati, chiaramente non potevano mancare per vedere il carnevale di veri. Allora, vediamo un po' di poter fare due chiacchiere con Chuck, Chuck, piacere Chuck, e Mary, Mary, e Mary. Amanda, non fa parte dei Passengers. Ecco, perché sai questi, sì ecco stavo avvicinando, sai perché ti ho chiesto chi era lei? Perché sappiamo che nei gruppi sono sempre degli sconvolgimenti e pensavamo che magari fosse entrata. Lui ha fatto tutto bene e non ci sono questi tipi di problemi. Hai gli occhi fuori dalle orbite, vedo che hai fatto un... Bellissimo ieri sera e non riesco a vedere la luce del master. Ecco, da scherzare chiaramente, mica è così. Adesso vediamolo perché poi fra l'altro beneficia tutte le signore che sono all'ascolto, è anche un bel ragazzo, mettiamolo. Quindi con gli occhi così non lo so io come sarebbe andato a finire. Allora, parliamo un attimino prima di passare al carnevale e come vedete voi il carnevale. Innanzitutto raccontaci qualcosa dello spettacolo di ieri sera, avete avuto un grande successo, questo lo sappiamo. Tornerete presto. È stato un spettacolo per noi un po' più impegnativo perché stiamo montando più scenografie di prima e cercavamo di fare dei balletti nuovi che non avevamo mai fatto. Allora è stato un primo per noi come adoperare le cose. E niente, il locale è molto bello e il pubblico mi hanno detto che era un po' disperso da tutto Viareggio, abbiamo avuto un pubblico vario e non pieno pieno ma così bene, è andato bene. Sono contento per voi. Mary, tu conoscevi il carnevale di Viareggio prima di venire in Italia e fare questa grande carriera artistica che hai fatto? No, sono qui in Italia più o meno tre, quasi quattro anni e non ho mai visto un carnevale, è una cosa splendida veramente. Sono contento che tu l'abbia notato perché non si può fare a meno di notare perché chiaramente è molto bello. Senti, dimmi una cosa, se tu ti chiedessero di fare un carro, di dare un tema a un carro per costruirlo, che tema daresti? Ti dovediamo un po'. Ma... I passengers? La prima cosa che è venuta in mente erano i pianeti, non lo so perché, i pianeti del tipo, sì, come si chiama, Venus, Mars... Ti piacerebbe far impostare sui pianeti? Adesso è astronomica questa cosa. Sentiamo Jack che cosa so, si nota che è tutto abbastanza verso il politico, quasi sempre, invece magari ci vorrebbe gli attori, una Sofia Loren lassù, i cantanti... Ti pareva lui che non dicesse Sofia Loren?